Oh, veniamo a X-Factor! Ma sì, quello di quest'anno! Sì! Ciao! Eccoli! È come se gli cagassero sul divano di casa, dai! Ma scusami, ma no! Guardalo com'è ridotto! Ma dai! Eh, eh! Bella domanda! Perché? Non sa cosa risulta, eh! Siete riusciti nel vostro intento, quindi... È vero, mi avete fatto schifo? Ah beh, quindi... Ah beh, però... Ah no, è un no, chi l'avrebbe mai detto? Che caldo, eh! Ecco, questo è un genio! Questo è bravo, eh! Sì? Sì? Tanti solitamente! Io ho iniziato a cantare in auto! In auto, eh! Vabbè, mentre guidavo con tutte e quant'altro, sì! Vabbè, eh! Quant'altro, eh, soprattutto! Cosa canta? Una canzone di Pino Mango! Ma no, ma è difficile! È difficile da cantare, Mango! Grande, ma è difficile! Però ho... Soprattutto Bella d'estate è difficile! Eh, cantava in auto! Beh, non ha iniziato male, eh! No! Ritiro! Mamma mia! Ma che auto ha? Qui? È la frenata dell'auto, secondo me! Eh, infatti! Anche secondo me! Ma... Mamma mia! Però migliora col tempo! Anche per me no! Eh, beh! Io ti dico no! Guarda, pure per me era no! Questi sono i miei idoli! Sono dei geni! Noi siamo? Noi siamo i Ken Lafenn! Sì! No, siamo i Ken Lafenn! Eh, infatti! Infatti! Cosa ci suonate? Noi teoricamente facciamo solo pezzi nostri! Teoricamente! I nostri brani? Ti ricordi? Sì! Wanna Figa! Eh! Cosa ci cantano? Eh beh, certo! Wanna Figa era meglio di noi! Io avrei preferito! Si parla di uno che è calvo! Certo! È un poligabue come genere! Aia! E quindi? Ma no! Ma questo non era Wanna! Guardate la Michelin come reagisce! Ma no! Questi dovevano arrivare in finale! Ma no! In finale dovevano arrivare! E invece... L'Angelo ha fatto qualcosa! L'Angelo non ha fatto niente! Niente! Ma è esattamente il tuo ruolo nel gruppo? Qual è? In cosa consiste? Dicono che sono la loro musa ispiratrice! Ma ti hanno preso per il culo, è chiarissimo! Però li hanno eliminati! Eh, è un scandalo! No! 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 No!